Come sapete stiamo attraversando la più grande emergenza della storia italiana dalla seconda guerra mondiale ad oggi. L'Italia piange centomila morte e il numero dei contagi è tornato a salire in maniera molto preoccupante. L'emergenza sanitaria e quella economica che ne consegue potranno finire soltanto quando finalmente sarà immunizzata la gran parte degli italiani e questo si dovrebbe ottenere entro la prossima estate. Ma per farlo ci servono più dosi di vaccino. Finalmente Pfizer ha dato garanzie sulle nuove consegne che consentiranno di imprimere un'accelerazione nelle somministrazioni. Abbiamo anche buone prospettive per altri vaccini e anche per quanto riguarda il vaccino russo, lo Sputnik, che secondo gli esperti funziona molto bene. Il piano vaccini che Forza Italia ha studiato e ha proposto al governo dimostra che creando una rete di somministrazione pubblica e privata, civile e militare, che lavora in maniera coordinata sarà possibile somministrare 500 mila fiale al giorno. Riteniamo comunque che si debba scongiurare un nuovo lockdown generalizzato che potrebbe avere conseguenze molto gravi sulla nostra economia. Dobbiamo quindi garantire agli italiani delle decisioni ponderate per quanto riguarda i divieti per i cittadini e dobbiamo anche garantire agli imprenditori risarcimento adeguati e veloci per coloro che si vedranno obbligati a fermare le loro attività.